Anche quest'anno San Giorgio, azienda di produzione di prodotti dolci e salati surgelati, ha deciso di partecipare ad Hospitality Sud, dove abbiamo la possibilità di incontrare grandi e piccole strutture della zona, ma anche provenienti da altre regioni, per presentargli tutto l'assortimento della linea hotel, tutti i piccoli formati, ma anche le novità, come per esempio i muffin, normali e senza glutine, che abbiamo lanciato quest'anno, che sono ottimi, già cotti e pronti solo da scongelare. Stiamo quindi presentando tutti i prodotti e l'assortimento ideale per gli hotel.